e bella a tutti ragazzi io sono xboygamer come vedete nuovi occhiali si nuovi occhiali presi dall'ottico adami nuovi occhiali nuovi gang nuovi occhiali blu con montatura nera e qua ancora blu con un po di grigli di marrone qui e sono più grandi quelli di solito comunque si insomma quello lì ecco volevo solo dirvi che oltre come ho visto nel video come ho detto nel video precedente quello su quello sui nuovi video del canale che ovviamente datelo a vedere e scrivete nei commenti cosa volete vedere sul canale ho intenzione di portare una nuova serie su roblox spero che mi sfrutterà qualche un altro po di iscritti qualche visualizzazione in più comunque ovviamente faccio perché mi piace mica lo faccio per avere iscritti o visualizzazione comunque volevo solo dirvi questo che vi porterò porterò anche una serie su roblox comunque ecco qua questi sono gli occhiali dite appunto e comunque grazie per aver visto il video ci vediamo alla prossima e bella raga